Un cordiale saluto agli ascoltatori di Cittago Radio. Oggi parliamo dei 150 anni di attività della caserma Cernaia, della borgata Mirafiori, di gatti e piccioni, della creatività giovanile a Torino. Cernaia. Il 12 febbraio nella sala del Consiglio regionale piemontese si è tenuta una cerimonia per festeggiare il 150esimo anniversario della costruzione della caserma Cernaia. Alla cerimonia, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, ha preso parte con molte autorità militari e civili anche il Presidente del Consiglio comunale Giovanni Maria Ferraris. La caserma ospita fin dalla sua nascita la scuola Allievi Carabinieri e il suo nome significa in russo Piccolo Fiume Nero e corrisponde a quello di una località della Crimea dove nel 1855 i 18.000 carabinieri al comando del generale Lamarmora vinsero una battaglia che poi Cavour seppe sfruttare in modo decisivo per l'esito dell'unificazione italiana. Borgata Mirafiori. Un angolo di vecchio Piemonte incastonato tra lo scatolone semivuoto del grande stabilimento Fial Mirafiori e il Sangone. Poche centinaia di metri e un pugno di case dei secoli XVIII e XIX, ma percorrendoli sembra di aggirarsi per le stradine di un paese del Monferrato, a patto di non sollevare troppo lo sguardo perché i casermoni del boom edilizio degli anni 70 incompono poco distante. E la Borgata Mirafiori, il nucleo storico della Cercoscrizione X, oggetto di un intervento di riqualificazione dell'arredo urbano, presenterà il suo nuovo volto lunedì 17 febbraio alle 12 con il sindaco Fassino e il presidente della Cercoscrizione X Novello. Si è occupata di gatti e piccioni la commissione ambiente durante l'ultima riunione che si è tenuta Palazzo Civico. Con i lavori per la ricostruzione del Filadelfia, che fine faranno i micetti granata, cioè le colonie feline da tempo stabilmente insediate nell'area dell'ex stadio che vide le gesta del Grande Torino? La Fondazione Filadelfia ha assicurato che i lavori previsti per il definitivo recupero dell'impianto si svolgeranno nel pieno rispetto dei gatti. Per quanto concerne i piccioni, invece, sono in discussione alcune modifiche delle parti del Regolamento Comunale per la tutela e il benessere degli animali in città che li riguardano. L'ASL ha rilevato un possibile rischio di infezione da batteri patogeni Campy Lockbatter, presenti nelle deiezioni di questi volatili, e conseguentemente chiede al Comune di estendere l'area di rispetto intorno a ospedali, asili nido, case di riposo e aree giochi bimbi, entro la quale è proibito alimentare i colombi, dagli attuali 50 a 250 metri. L'ipotesi desta qualche perplessità da parte della consulta animalista, ma se ne discuterà ancora. Da giovani a giovani. Sono stati pubblicati i nomi degli unici vincitori del bando da giovani a giovani. Si tratta di associazioni operative a Torino con soci di meno di 35 anni. Lo stanziamento, 50.000 euro, proviene dalla legge turco numero 285 e dalla legge sulle aree metropolitane, ed è stato ripartito in tranche non superiori a 5.000 euro. Primo progetto premiato in ordine di punteggio, quello dell'Associazione Arteria, che ha realizzato una mappatura ed un sito che raggruppa quartiere per quartiere i giovani artigiani della città. Secondo premiato, il progetto di e-contact, centrato sulla conoscenza tecnica da parte dei giovani delle energie rinnovabili. River Ice, con fiume in onda, propone ai cittadini una riflessione sull'importanza dei corsi d'acqua. Molti dei progetti premiati sono centrati sui fattori della comunicazione, sulla grafica e sui nuovi media. Non è ancora possibile sapere se nel 2014 da giovani a giovani sarà rifinanziato. L'edizione di oggi è stata redatta da Federico D'Agostino, Silvio Lavalle e Claudio Raffaelli, direttore Remo Guerra.